C'è scherzo quanta cosa devo agli una se viene scoperta e bentornita. Io so accasato, eppure mi consuola, e se ne vedo, sento un prurito. La moto è convincente e una, e per questi miniconi francamente sono passati giù nel guagliù, ma le vecchiotte possono solo guardare. Diceva se Michele era spazzino, ha davanti a tempo che ci può scommettare, che le guagliù gira nel bichino, oppure come mamma le facette. Per questi goni corti corti si sta sempre a marmorare, ma per me la bellezza non c'è bisogno di smandare. Se per caso sei nervoso, non puoi più riposare, pensa a tante cose belle, e ti calma là per là. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.